Vieni da papà? Dai! Bravo Pietro! Che bravo! Vai dalla mamma, dai dai dai! Sì, da mamma! Che amore! Bravissimo, che dolore! Ma bravo! È la macchinina? Dov'è la macchinina? Brum, brum! Guarda, il telefono! E il libro? Dov'è il libro? Il libro! Dov'è il libro, Pietro? Libro! Eh! Eh! Quello è! Non è il libro, però! Eccolo il telefono! Guarda, l'idea si è rialzato, hai visto? Ah sì! Non è la prima volta! Bravo! Bravo tesoro! Bravo! Chi c'è al telefono? Chi c'è? Nonna? Nonna! Un pochino pianino, mamma, sei troppo veloce! Dove vai? Eh? Dove vai? Dove vai? Andiamo a nonna, dai, che è tardi, tardi, tardi! Voglio andare a nonna, vero, tatone? Vero che si va a nonna? Lo dici? Vero che si va a nonna? Dove vai a nonna?